Kanyaman e Mauro Bolla scendono Calderoli e Schlein, ecco il borsino della settimana. Kanyaman, attore l'attore e modello turco, è in questi giorni in Calabria per il rifacimento della serie Sandokan, che grande successo riscossa in Italia con l'interpretazione di Kabir Bedi. Un progetto ambizioso realizzato da Rai Cinema con il supporto della Calabria Film Commission. I primi Chuck hanno avuto come location la suggestiva Le Castella, mentre alla mezzia terme è stato organizzato il quartier generale di una produzione destinata a tutto il mondo e dove la Calabria farà da splendido scenario. Mamma, Li Turchi, Mauro Bolla Manager. L'ex country manager di Ryanair Italia lascia la compagnia aerea più forte d'Europa per venire a lavorare in Calabria come direttore commerciale della SACAL, la società che gestisce gli aeroporti calabresi. Il manager ha deciso di aderire alla manifestazione di interesse pubblicata dalla regione. Ancora una volta i destini turistici, e non solo, della nostra regione si intrecciano con quelli della compagnia low cost, che sulla Calabria sembra puntare forte. L'unica speranza è che questo idillio non si interrompa lasciando a piedi i calabresi. È una bella favola quella che lega l'ambasciatrice in Italia del Kosovo con la nostra terra. Quando il suo paese era fortemente segnato da una guerra terribile, l'unical metteva a disposizione dieci borse di studio per i ragazzi che scappavano dal conflitto. Fra i beneficiari c'era proprio lei che ad Arcavacata si è laureata in scienze politiche per poi conseguire il master in relazioni internazionali che gli ha aperto le porte alla carriera diplomatica. Lei non l'ha mai dimenticato e dice che un pezzo del suo cuore è rimasto fra le colline di Rende. Formazione e solidarietà Roberto Calderoli, senatore della Lega Non bastava la polemica fra i presuli calabresi e Matteo Salvini sull'autonomia differenziata. Il padre della tanto contestata riforma ha voluto metterci il carico da undici con il suo solito stile. Interrogato sull'argomento, Calderoli la butta sull'ironia Nelle mie preghiere chiedo perdono per i peccati che secondo la CEI io avrei commesso ma avete visto di che colore portano i cardinali i calzini? Alludendo ovviamente al rosso porpora C'è chi dice che il rosso si abbina meglio del verde soprattutto nelle regioni che rischiano i maggiori danni dal nuovo regionalismo. Famiglia gentile, politici Per anni sono stati il volto calabrese del berlusconismo una leadership imposta a suon di fiumi di preferenze mantenendo uno schema rigido Pino alla regione, Tonino a Roma Il cambio generazionale ha invece sgretolato il solidissimo connubio politico familiare L'ex senatore ieri è tornato ad una manifestazione pubblica a favore di Forza Italia insieme al figlio Andrea in attesa che la giunta per le elezioni dove pende il suo ricorso contro Anna Laura Orrico gli riapra le porte di Montecitorio La cugina Katia invece ha scelto altre strade ed è stata fulminata sulla via di Pontida Per le europee quindi si profila un derby tutto in famiglia Parenti serpenti Ellie Schlein, segretario nazionale del PD La segretaria del PD, in tour elettorale nel sud per le europee dopo la tappa in Calabria decide di imbarcarsi alle 10 con tutto il suo staff sul traghetto della Caronte per raggiungere la Sicilia il tutto documentato attraverso i social Alle 10.20 Schlein ha mandato la clip del suo sbarco Abbiamo attraversato lo stretto con la nave e ci abbiamo messo appena 20 minuti a dimostrazione che il ponte non serve La Lega però dice che alla fine è stato uno spot per l'opera perché un conto è farlo in un giorno infrasettimanale di maggio un altro nei giorni di maggiore traffico soprattutto se si va in treno Grazie a tutti